ciao ragazzi crimine del giorno 26 aprile 26 aprile 1986 la 1 e 23 di notte l'origine di una quantità di isotopi di stronzio di plutonio di cesio che sono attorno a noi insieme all'americcio 241 in grado di rimanere attivi per migliaia di anni di che cosa stiamo parlando stiamo parlando ovviamente di cernobil che ha avuto diversi studi in relazione quelli che possono essere i risultati a distanza di anni e al di là di un'analisi che si potrà affrontare in un video più abbondante relativo a quello che sono stati gli accadimenti di quella notte a quelle che sono state l'approccio assolutamente volontario o non volontario ma in termini assolutamente dilettanteschi della gestione di questo reattore e dei risultati sicuramente abbiamo dei risultati che sono incredibili incredibili e vanno molto al di là di quello che possiamo pensare ancora oggi e direttamente di fianco alle nostre case ovviamente quello che a me interessa e andare a mettere il dito su quelle che sono le differenze di analisi dei risultati a distanza oramai insomma di 35 anni 40 anni quelli che sono questo non è il problema fondamentale non è esattamente capire quanti sono stati i morti immediati quanti sono stati effettivamente le persone evacuate quanti sono stati gli eroi che si sono impiegati in tutto ciò ma quella che è la diversità dell'analisi ovviamente che cosa abbiamo da una parte vi presenterò tre visioni importanti la prima ovviamente è quella relativa al cernobil forum il cernobil forum è stato praticamente capitanato dall'om s e da una serie di altre organizzazioni legate all'onu fra cui ovviamente quello che è il programma per il progresso delle nazioni unite piuttosto che l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura la fao il programma per l'ambiente delle nazioni unite l'ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'onu tutta una serie di organizzazioni che vedono in cernobil fondamentalmente due cose una quantità di morti non superiore ai 4000 in relazione a tutte quelle che sono state le malattie derivate dai principali isotopi ancora presenti nella terra al di là delle zone circa 100 chilometri quadrati più gravemente danneggiate dall'esplosione di cernobil quindi dai 4000 ai 6000 non di più quindi in relazione ai cancro e tiroidei principalmente e alle leucemie ok anche i risultati in termini di lungo periodo al di là dei 200 mila lavoratori che sono stati impiegati nelle squadre di emergenza secondo l'oms secondo quello che è il cernobil forum sostanzialmente non supererebbero i 2.200 potenziali casi mortali a distanza di 40 70 anni dalle esplosioni e circa 4000 casi di cancro tiroideo secondo i quali cioè secondo loro sostanzialmente mortali semplicemente nel 1 per cento dei casi questo è principalmente la stima del cernobil forum che ha tra l'altro evidenziato un problema primario relativo al risultato di cernobil relativo sostanzialmente alle malattie legate principalmente allo stile di vita e alle malattie mentali dovute eventualmente all'evacuazione per quanto riguarda le comunità locali o le comunità allargate all'interno di ucraina e russia quindi sostanzialmente niente di relativamente grave in relazione a quella che è stata l'esplosione indipendentemente dalle motivazioni con cui è stata e nelle motivazioni per cui si è verificata e il modo in cui è stato gestito l'esperienza profondamente traumatica si dice è stata fondamentalmente il centro fondamentale di un risultato sostanzialmente psichico questi sarebbero i risultati purtroppo in realtà questi 4 6 mila morti sono fortemente contrastati non tanto dai risultati dalla ricerca in relazione a tumori che non possono essere direttamente dimostrabili e guarda caso c'è una relazione geniale rispetto a quello che sta succedendo in europa e nel mondo in questo momento in relazione a tante altre cose no che non si possono collegare a un certo tipo di veleni o quant'altro sono morti che parebbero non correlate ecco qua la non correlazione è qualcosa di tragico è stato fatto ovviamente un rapporto che è la secondo punto di cui vi parlo per poi andare a parlare di un terzo punto incredibilmente interessante seguitemi perché andremo a parlare di quello che è la base dello sviluppo della flora della fauna finalmente in uno studio portato avanti dal 2014 al 2016 dall'università della carolina che è qualcosa di terrificante però il vero il secondo rapporto su cernobil de dettagliatamente portato avanti dal partito verde europeo e guarda caso chiamato proprio di ad rep on cernobil quindi il torce l'altro report su cernobil parla di numeri decisamente differenti e soprattutto non prende in considerazione principalmente le cosiddette malattie mentali o il problema dello sviluppo sociale limitato in russia che parrebbe essere il punto fondamentale sul quale fondamentalmente l'occidente vorrebbe mettere il dito per non avanzare delle dei veri studi realistici su quello che è successo e ancora sta succedendo a causa di cernobil il limite dello studio del torch che riguarda sostanzialmente dai 37 chilometri quadrati in relazione alla distanza insomma da pripiat dall'esplosione del reattore fino a una distanza di 1500 chilometri quadrati per poi allargarsi fino alla svezia e arrivare fino al sud italia perfino perfino a toccare il marocco parla come minimo di 30 mila 60 mila decessi relativi a malattie tiroidee e soprattutto a malattie relative alle leucemie questi sono dati che vengono estrapolati da una incidenza importantissima dei dati incrociati tra un semplice aumento dell'incidenza e una gravità di queste malattie che ha portato una quantità di persone all'interno dei lavoratori e all'interno dei residenti alcuni dei quali non hanno voluto spostarsi altri sono stati evacuati ma ciò nonostante soprattutto i risultati del cesio dello stronzio del plutonio parrebbero essere devastanti che potrebbero addirittura arrivare in un rapporto invece di greenpeace fino a 270 mila vittime per quanto concerne le zone relative all'est europa e le zone relative al nord europa e alle zone anche relative alle semplici foreste italiane ovviamente nella maggior parte dei casi qui abbiamo una forbice che si alza in maniera devastante perché greenpeace come nel caso delle manifestazioni adesso vogliamo prenderlo in maniera positiva ecco vogliamo prenderlo in maniera come dire vogliamo essere scettici voglio essere scettico anch'io per presentarvi i dati importanti greenpeace è arrivata a fare insomma una forbice che parte dai 4.000 6.000 del forum di cernobyl fino a 6 milioni di morti ovviamente non direttamente correlabili quindi non non direttamente correlabili ma questo tipo di informazioni non sono basate sul nulla nel senso che ci sono più di due milioni e mezzo di persone esposte direttamente alle radiazioni in ucraina che hanno sviluppato una quantità una percentuale secondo gli studi di greenpeace di malattia la tiroide e di leucemie e soprattutto bambini al di sotto dei nove anni che per esempio bevevano latte di mucche che avevano mangiato vegetali contaminati che si allarga fino al 78 per cento in più rispetto a quella che per esempio è la popolazione delle isole del giappone ok per fare un riferimento differente anche se poi lo sfaldamento delle nubi tossiche e di questi isotopi di cui abbiamo parlato in realtà si dimostra essere incredibilmente come dire a pioggia ok su tutto il mondo quindi probabilmente quei numeri non dimostrabili ma terribilmente impressionante fanno riferimento principalmente alla possibilità nell'arco di 70 90 anni per un fallout di tipo generalizzato sul mondo di sovati di andare a interferire sulla salute mondiale in maniera ben più efficace di quello che ovviamente l'oms e tutte le relative istituzioni dell'onu hanno voluto inizialmente indicare e in qualche maniera ridurre soprattutto per mettere il punto sull'incapacità della russia e dell'ucraina di gestire principalmente i rapporti socio politici ma fondamentalmente di non essere così piagata da quello che è un risultato relativo al fallout di per per quanto concerne cernobil allora il punto fondamentale che io vi volevo portare al nel discorso di oggi per il crimine è qualcosa che è relativo alla vegetazione morta allora che cosa porta gli organismi diciamo maggiori quindi le piante e poi anche gli esseri viventi a decomporsi durante la vita e poi dopo la morte ovviamente si tratta di microrganismi estremamente importanti detti dei compositori appunto che possono essere sostanzialmente microrganismi che stanno all'interno delle famiglie delle muffe e dei fumi ora dal 2014 al 2016 c'è stato uno studio condotto da timothy musso che è un professore emerito di biologia ed è anche codirettore delle iniziative di ricerca su cernobil e fukushima lavora all'università della sud carolina quindi questi sono dati che possono essere andati a verificare insieme a un team di scienziati estremamente importanti nel campo fra cui genna di milineschi e jane kenny hunt hanno sostanzialmente fatto un esperimento relativo alle muffe i funghi per vedere qual era il rapporto di capacità di decomposizione sulle piante nella zona della foresta rossa di fianco a pripiat quindi la zona in cui ancora oggi esiste una variazione in termini mutazionali degli animali clamorosa per quanto concerne gli organi interni e una sopravvivenza delle piante ma soprattutto una non decomposizione delle piante relative agli isotopi di cesio stronzio e americcio depositati a causa dell'esplosione che è qualcosa di incredibile è qualcosa di incredibile soprattutto perché questi isotopi ragazzi e qui andiamo a vedere quello che può essere una correlazione una non correlazione sono presenti in maniera eccezionale nei cinghiali della valsesia per esempio quindi siamo qua dietro in italia in piemonte ok dietro a casa mia dietro a casa di moltissimi di voi che hanno una soglia sostanzialmente superiore del 7 8 9 per cento rispetto alla soglia prevista normalmente all'interno della carne dei cinghiali fino ad arrivare all'ottanta per cento per quanto concerne i funghi e il latte piemontese ancora oggi ovvero pochi anni fa ovvero nel 2018 lo studio ha iniziato nel 2014 ed è finito nel 2018 ad essere malati principalmente sono i microrganismi come i microbi i funghi che stanno alla base del ciclo naturale della decomposizione del del cibo così come la decomposizione degli organismi primari come le piante allora hanno portato a termine un un esempio un scusate un esperimento estremamente importante andando a fornire praticamente della lettiera mettere dei sacchetti di lettiera di foglie secche tutto quello che era possibile far decomporre all'interno della foresta rossa di fianco a pripiat così come in altri diversi punti d'europa compresa l'italia compreso il piemonte siamo arrivati praticamente ad attorno 600 sacchetti di materiale decomponibile che veniva reso non accessibile agli animali maggiori quindi a formiche eccetera eccetera veniva reso accessibile semplicemente alle spore di funghi piuttosto che alle mucche piuttosto che a batteri ora il risultato incredibile è che la perdita di massa dei sacchetti principalmente legati alle zone della foresta rossa piuttosto che alle zone relativamente più lontane rispetto a cernobil fino ad arrivare ovviamente alle zone italiane piuttosto che in svezia piuttosto che in austria piuttosto che in ucraina un pochettino allontanata rispetto a cernobil e quant'altro si andava da una perdita di consistenza e di quantità di questo materiale decomponibile che andava giustamente dal 70 al 90 per cento nelle zone meno come dire toccate dal fallout nucleare fino al 40 per cento in meno nelle zone in cui si era vicini alla foresta rossa e relativamente più vicini ai cento chilometri quadrati ovviamente attorno a pripiat questo è scandaloso ed è terrificante perché non solo ci dice che tutti quei tutti quegli isotopi che abbiamo citato prima sono ancora incredibilmente presenti a scala all'interno delle zone interne del dell'europa fino ad arrivare alle come dire alle coste del marocco ma questo ci dice anche che la loro mancanza di decomposizione li rende estremamente più secchi li rende estremamente più facile da incendiare gli incendi pensate sono aumentati attorno all 88 per cento secondo gli studi che sono stati fatti collegati a questo tipo di esperimento sulla deca sulla capacità di decadenza e di decomposizione di questo materiale e l'incendio che cosa fa l'incendio non fa nient'altro che riportare su e riaumentare la possibilità di fallout nucleare in altre zone laddove poi i fumi di questi incendi verranno spostati proporzionalmente a distanza oramai di 35 40 anni dall'incidente di cernobil quindi questo è qualcosa di terrificante e se tutti quei rapporti di greenpeace e se tutti quei rapporti della torch vengono considerati dall'onu dall'oms dalla fao eccetera come dei rapporti falsati e non dimostrabili beh allora noi dobbiamo guardare in faccia questi signori e dire signori può darci che non siano dimostrabili ma queste persone che finalmente hanno fatto un esperimento importante di mancanza di decomposizione e quindi di incapacità di come dire utilizzare l'umidità per andare a decomporre il materiale e di proporzionale rialzo delle statistiche degli incendi possono praticamente creare un evento ciclone che porta avanti il fallout nucleare in europa e nelle zone che riguardano direttamente fino alle coste del marocco la grecia fino all'iran alla turchia tutte queste zone qua e poi ovviamente in tutto il mondo grazie ai venti quindi tutto ciò che voi ritenete non correlabile signori evidentemente noi dobbiamo considerarlo come qualcosa di evidente e se c'è un 7 8 per cento fino a un 80 per cento relativo a quello che sono i prodotti naturali perfino qua da noi in valsesia perfino nelle zone dell'oltrepo per quanto concerne per esempio gli isotopi del cesio beh allora potete anche dirci cesio 137 potete anche dirci che secondo voi il problema principale un problema di salute mentale per le persone che avete spostato potete dirci che la gente sta morendo naturalmente ed è morta naturalmente però in qualche maniera io queste domande sul cesio e sui microrganismi che non sono più in grado di decomporre il materiale a distanza di 40 anni bisogna farsela perché la gente secondo me sta morendo ancora oggi in quantità eccezionale per motivi molto ma molto ma molto diversi e più gravi rispetto a quelli che ancora una volta state raccontando e io sto parlando di chernobyl non sto parlando di tutto il resto che state facendo ok questo è il crimine al giorno di oggi stile chernobyl stile chernobyl ripeto lo studio sui microrganismi che decompongono il materiale organico è uno studio condotto da timothy cosso professore di biologia e codirettore della chernobyl and fukushima research initiatives alla università della sud carolina per chi volesse approfondire ok questo è il crimine di oggi alla botteguccia dei sigilli immancabile 1 e 23 di notte 26 aprile 1986 quanti milioni di morti state facendo perché lo state facendo in che modo lo avete fatto c'è davvero solo ed esclusivamente della buona fede della incapacità io non lo so ma questi risultati stanno andando avanti io vi saluto ragazzi e ci vediamo domani per un'altra pillola di crimine e la settimana prossima con i nuovi contenuti della botteguccia ciao ciao dal teo questa parte ciao dal teo questa parte ciao dal teo questa parte